ciao come stai? oggi io e lei facciamo una passeggiata nel parco e lei perché piangi? probabilmente ha fame per fortuna ho qualcosa qui nella mia borsa un omogeneizzato alla pesca Elive ho trovato un tavolino bravissima Peppa arriviamo ho fame ho fame si Elive adesso mangiamo grazie Peppa per aver occupato il tavolo ciao Erika, ciao Eli, pappa! si ora si mangia la pappa eccola qui prendiamo la borsetta ecco il nostro omogeneizzato e il bavaglino per non sporcarsi e arriva l'aereoplanino e l'ultimo cucchiaino bravissima ho finito tutto anch'io ho fame Erika adesso controllo se ho qualcosina per te nella borsetta non c'è più niente allora dobbiamo andare a casa a mangiare ma Peppa non è necessario secondo me possiamo cucinare qui nel parco mettiamo i cappellini per proteggersi dal sole e adesso siamo pronte guarda Peppa c'è una bancarella di odode hamburger possiamo cucinare lì e tu Peppa ti metti qua accanto a The Live andiamo guardate che bella bancarella ho già fame sento un buon odorino allora Peppa che cosa vuoi mangiare? voglio un hot dog uno hot dog ottima idea io invece voglio un hamburger iniziamo a cucinare prendiamo le pinze prendiamo il wuster e lo mettiamo sulla griglia e anche l'hamburger mi serviranno due tipi diversi di pane questo per l'hot dog e questo per l'hamburger questa mi servirà per girare la carne mentre la carne si cuoce possiamo preparare qualcosa per Elive mmm che buon profumino apriamo il biberon e versiamo il latte e adesso aggiungiamo il preparato in polvere chiudiamo e aggichiamo un po' secondo me la carne è pronta hai ragione Peppa è l'ora di metterla nel pane e il nostro hot dog è pronto Peppa vuoi aggiungerci il ketchup o la maionese? sì voglio il ketchup nell'hamburger io ci voglio la maionese e chiudiamo l'hamburger sembra tutto delizioso è tutto pronto? possiamo tornare al tavolo a mangiare eccoci qua buon appetito a tutte ecco Peppa questo è per te grazie che buono Elive ecco il tuo biberon e per me è un delizioso hamburger questo è un dolce mi piace tantissimo è buono anche il mio hamburger è venuto buonissimo e a te piace cucinare nel parco? se ti va metti mi piace e continua a seguire le nostre avventure noi ti aspettiamo ciao alla prossima